salve a tutti io sono andrea e praticamente vi racconto la mia esperienza con broker per la telefonia tutto è iniziato che ero disperato cercavo una sim di una compagnia telefonica con gigli limitati senza blocchi e le avevo provate tutte la wind avevo provato la team la vodafone la 3 e avevo i gigli limitati nel contratto ma come ben sapete non è così ci sono i blocchi se uno scarica un po troppo i giga rallentano la connessione ed è un casino viene rallentata e per un mese non si può cioè diventa una cosa improponibile così ero disperato e in internet mi sono imbattuto per caso in broker per la telefonia e c'era questo numero di miriam questa ragazza gli chiede informazioni e lei molto gentile mi dice che questa sim non ha blocchi cioè quando navighiamo ai suoi gig limitati non ha blocchi non rallentano io all'inizio ero scettico allora ho pagato i 50 euro di attivazione dopo un mese sono arrivate le sim miriam le ha spedite appena che ho fatto il pagamento annuale dopo uno può scegliere se farlo trimestrale mi sembra 6 mesi o annuale è una sim dati della team che va bene per il territorio nazionale naturalmente non per l'estero ovvio io vado spesso in giro quindi mi arriva una sim dati nazionale anche per stare in casa è arrivata la sim è già un mese che la uso circa e devo dire che sono veramente soddisfatto allora vi faccio una parentesi e vi do un consiglio se vi arriva la sim e la mettete dentro un telefonino in hotspot può andare bene lo stesso ma non usa il massimo della potenza un telefono perché il telefono è nato per fare il telefono ha un modem integrato è vero anche buono ma non è mai come un modem che è nato per fare il modem quindi vi conviene a prendere un modem e fare e fare la connessione con un modem vero e proprio e il telefonino lo usate per fare il per navigare quando non avete il modem benissimo io vi faccio vedere il mio modem dentro ho messo broker per la telefonia una sim della team adesso lo accendo e vi faccio vedere vi faccio vedere lo speed test io vi do un consiglio ho provato tanti modem tanti tutorial e strano ma vero questo modem della netgear questa è la sua batteria qui c'è la poi la sim ha le sue diciamo le sue come si dice gli adattatori questo modem qui netgear mr 2100 questo qui è veramente una velva io a casa mia a comacchio provincia di ferrara sono arrivo in media sugli 80 mega effettivi anche 85 mega effettivi e tantissimo ho provato anche a casa da un mio amico che la fibra ottica gli stavo lì anche di più andavo anche non ci crederete ma provate giustamente dovete avere la copertura dove abitate se abitate in un paese sperduto che non c'è connessione la linea sarà molto meno potente normale questo modem qui è veramente forte io ve lo consiglio netgear mr 2100 questa sim del broker per telefonia la potete mettere in qualsiasi modem io ho provato questo è molto buono dopo farò un tutorial se ne serve uno il modem l'ho messo a 5 giga 5 g scusa scusate che per le brevi distanze è velocissimo oppure si può mettere 2 2,4 hertz che prende più lontano è un po meno potente comunque la connessione è veramente ottima in tutte e due le forme ora lo accendiamo metto la batteria metto il suo coperchio e lo accendiamo un attimo solo ci mette 50 secondi poi con il telefonino che io ho uno mobile che tra poco lo cambio mi connetto al modem di broker per telefonia che si collega team e poi gli faccio vedere lo speed test io vi consiglio se vi trovate bene di fare la sim di un anno mi sembra che siano 24 euro un mese circa veramente ottimo ecco si è acceso ora mettiamo il telefonino nel wifi un attimo solo ringrazio sempre miriam è stata molto molto gentile ha parlato molto chiaro molto in gamba quindi si merita questo tutorial io vi porto la mia testimonianza poi le cose le dovete provare io vi ho dato una dritta benissimo si è collegato ora facciamo lo speed test un attimo solo vado su eccolo qui bene non so se lo vedete va molto veloce naviga da dio adesso fa l'upload guardate che roba qui siamo a Ravenna in macchina fantastico lo dice proprio la tua connessione internet è molto veloce la connessione internet in uso dovrebbe supportare la riproduzione in streaming di video hd videoconferenze giochi su più dispositivi contemporaneamente veramente buono questa è la sono i dati io sono veramente contento il prossimo tutorial vi faccio vedere un uno speed test su un computer calcolate che dipende sempre dal telefonino che avete la velocità con più un telefonino è buono e ha un modem integrato buono con più naviga veloce come il computer con più il computer a prestazioni che sono grosse se il computer è vecchio va un po di meno l'importante è che la connessione ci sia la copertura vi ho fatto vedere il test questo è il modem che io vi consiglio ripeto nel gear mr2100 io saluto broker per la telefonia e mi e miriam e questo il tutorial e poi vi spiegherò un altro tutorial nel computer vi farò vedere gli speed test grazie a tutti a voi